La comunicazione nel settore PET è davvero una brutta bestia. Concordo pienamente. Forse è per questo che le azioni di Media Relations a media digitali e tradizionali, a magazine, tv e radio, agenzie stampa e giornalisti, blogger, brand ambassador e influencer, ma se la tua azienda ha davvero l'obiettivo di arrivare al cuore e non solo al portafoglio, ma quanto potrebbe migliorare la visibilità del tuo brand, la tua reputazione, la relazione con il tuo pubblico e il posizionamento web attraverso un'azione di Media Relations con obiettivi e strategie ben precise. Non devi fare altro che compilare il modulo qui sotto e richiedere la tua ora di PET coaching gratuito. E non dimenticare, la rete è fatta di persone e non di computer.